Dopo la giornata a Trigoria insieme ai campioni della Roma Calcio, sabato scorso decine di ragazzi disabili si sono cimentati con la pesca sportiva al Lago Verdi Sant'Omero. L'iniziativa è inquadrata nel programma Sport e Disabilità promossa dall'assessorato alle politiche sociali e l'assessorato allo sport della provincia di Teramo. I ragazzi hanno avuto l'occasione di diventare pescatori per un giorno grazie all'assistenza dei volontari dell'associazione di pesca sportiva Biggestone di Teramo, dei quali hanno ricevuto il regalo pettorine e canne da pesca. Anche il tempo è stato clemente quindi sarà una bella giornata di sole leggermente ventilata, i ragazzi si sono divertiti ma soprattutto ci siamo divertiti anche noi perché stare con loro anche per noi è un giorno di festa. Dopo Trigoria, Lago Verde, già si pensa alla prossima gita? I ragazzi hanno espresso il desiderio di andare in montagna, ai Prati di Tio, entro un mese li porteremo ai Prati di Tio, faremo un giro con la seggiovia, quella nuova che è stata fatta e quindi poi ci sarà un bel pranzo, un pranzo lì e poi passeremo la giornata con una bella passeggiata e poi ritorneremo a Teramo. Sembra semplice ma non lo è così perché bisogna contattare tutte le persone, tutte le associazioni, contattare i pulma, contattare strutture, quindi se bisogna organizzare anche perché in precedenza abbiamo avuto una piccola critica, dobbiamo fare qualcosa senza nessuna sbafatura.